Tutto pronto per gli accusati fuori ai futani, gli accusati che con la maglia viola e pandorgini bianchi, fuori ai futani con la maglia verde, bianco e nero. Il match è iniziato, il direttore di gara è il signor Sanzica Manuel di Sapri. Ecco che si comincia con la messa per gli accusati, Gianluca, ancora gli accusati con Nicolás, 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 è la retta, è la retta, retta, si, gol, 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 gol. 1-0, gol di Vittorio, gol di Pasquale Di Luca, 1-0, 1-0, alla mezza del primo tempo, dopo la respinta a corso di Ermita, Pasquale mette in rete, un gol facilissimo, ed è 1-0, 1-0, vamos ragazzi. E' finito i cinque minuti di recupero, ancora si gioca. In questo momento l'arbitro dichiara fine dell'ostalità, l'arbitro Sanzica di Sapri, sezione di Sapri. Allora l'Icusate batte fuori a Futane per una rete a zero. Signore e signori telespettatori dell'Icusate Web TV, alla prossima. Dal campo sportivo Pappo Giovanni di Camarota, un buonasera da Giovacchino Cavaliere. Dal campo sportivo Pappo Giovanni di Camarota, un buonasera da Giovanni di Camarota, un buona ficzio. Grazie a tutti.